Ciao a tutti da Mario Carbone, in questa lezione vedremo un brano molto semplice, dove ci sono degli stornelli cantati sopra. Il brano è questo, dietro al Monumento di Mazzini, me l'hanno richiesto, quindi l'ho trascritto. Faccio ascoltare il brano, è una tarantella in sei ottavi, con tre tarantelle. Il brano è sempre uguale, è facilissimo come brano, molto semplice. Come inizio ve la spiego velocemente, è un brano facilissimo, quindi a chiudere in sesta posizione abbiamo 4, 3, 2. Come il finale, solo che c'è il contrario, prima 4, 3, 2 lungo, e poi aprire 5, 2 cerchiate e 3. E fate questo, a chiudere 4, 3, 2, ad aprire 5, 2 cerchiate e 3 in sesta posizione, e poi 4 e 3. Quindi, a chiudere 4, 3, 2, ad aprire 5, 2 cerchiate e 3. E poi 4, 4 e 3 dito. E quindi è così. Quindi 4, 3, 2, a chiudere, 5, 2 cerchiate e 3 ad aprire. E 4, 3, 2, ad aprire. Ecco qua, fatelo per una 10 minuti, questo che vi faccio vedere ora. Ecco qua. 4, 3, 2, a chiudere. 5, 2 cerchiate e 3 ad aprire. E 4, 3, ad aprire. Fate un formo immagine e fatelo per 10 minuti. Quindi è così qua. Guardate. Quindi l'avete fatto, l'avete messo in formo immagine, l'avete ripetuto 10 minuti, uscirà così. Quindi. Pensare che è difficile il cambio, eh? Quindi. Apro con 5, 2 cerchiate e 3. E 4 e 3 da aprire. Cercando ora di legarli. Non fate. Ma legati. Di nuovo. Benissimo. Questo l'avete memorizzato. Andiamo avanti. Abbiamo ad aprire. 2 cerchiato, 4 e 5. Quindi. Ripetiamo tante volte questo. 2 cerchiato, 4 e 5. Ancora. Ancora. Facilissimo. E dopo queste 3 note ad aprire. A chiudere abbiamo 4, 3, 2. Le stesse note dell'inizio sono ripetute 7 volte. Pensando. Napoli, Napoli, T. Così. Napoli, Napoli. Chiaro. Napoli, Napoli, T. Chiaro? Quindi tutte e 3 i tasti a chiudere. Napoli, Napoli, T. Quindi Napoli, Napoli, T. Quindi facciamo la prima frase che abbiamo fatto prima. Quindi queste 3 note collegate con questo che ho fatto ora. Le colleghiamo ora. Quelle 3 note ad aprire che erano 2 cerchiato, 4 e 5. E a chiudere 4, 3, 2. Napoli, Napoli, T. Le colleghiamo. Possiamo anche fermarci così. Quella ad aprire con le 3 note che erano 2 cerchiato, 4 e 5. e chiudere 4, 3, 2 pensando. Napoli, Napoli, T. Sono 7 note. Ta, 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 ta. Le colleghiamo ancora. Napoli. L'inizio possiamo fermarci tra le prime 3 note e le altre 7. E poi le cerchiamo di legarle. Quindi sarà. Ancora. Napoli. Ancora, Napoli. Ancora, Napoli. Ora vi faccio vedere la partitura. Eccola qua. Quindi stiamo ora seguendo questo. Fate un fermo immagine e fino a qui lo ripetete per mezz'ora. Bene. L'avete fatto. Esce così ora. Leghiamo l'inizio a questa frase. La prima frase è a quella di ora. Quindi queste note, vabbè, già le avete imparate a memoria. Quindi. Prima frase. La seconda frase. Di nuovo dall'inizio. Prima frase. La seconda. E ripeto questo. E cerco man mano di farlo, insomma, di seguito, senza fermarmi. E quindi ora mi metto a video tutto vigo, come prima. E lo ripetete un'oretta. Tranne l'ultima nota. Benissimo. L'avete fatto. Esce così. Bene. Andando avanti, ora siamo in quarta posizione. E facciamo questo. C'è l'ultima nota del primo rigo. Facciamo due e poi tre. Tre volte il terzo dito. Poi due cerchiato. Quattro. Tre. Due cerchiato. Quattro. Facciamo solo questo. Il due. Poi tre volte il terzo dito. Il due cerchiato. Di nuovo. Ancora questo. Ancora questo. Rettiamo ancora a chiudere il due. Poi tre volte il terzo dito. Fatelo dieci minuti. A questo mettete in pausa e fatelo. Benissimo. L'avete fatto. Esce così ora. Andiamo avanti con quattro, tre, due cerchiato, quattro. Quindi quattro, tre, due cerchiato, quattro. Quindi quattro, tre, due cerchiato, quattro. Ancora questo. Ancora questo. Ancora questo a chiudere. Ancora. Ancora questo Ancora questo Ancora questo Ripeto ancora Mettete in pausa e fatelo per 10 minuti Questo qua E poi legate quello che abbiamo fatto prima Quindi dall'ultima nota del primo rigo Fino a quello che abbiamo fatto ora Bene, l'avete messo in pausa, l'avete fatto Ora esce così L'avete anche legato alla frase di prima che è così Di nuovo Ancora questo Aggiungiamo due, tre Due cerchiato, tre lungo Quindi due cerchiato, tre lungo Ripeto di nuovo questo E lo collego alla frase di prima Quindi sarà così Di nuovo Non sto facendo le acciaccature, quelle notine piccole Che vi consiglio di coprirle con la matita In modo che le seguirete fra un mese, due mesi Quando sarete più sicuri Ancora Di nuovo questo a chiudere E lo fate per un'oretta Ecco qua La frase, tutta questa Inizia da l'ultima nota del primo rigo E arriva fino a qui Chiaro? Questa è la frase La faccio in rosso così E' più facile capirla Andando avanti dall'ultima nota del secondo rigo Abbiamo questo, il quarto dito Quindi due volte il quarto dito Due volte il due cerchiato E due volte il tre Quindi sarà in levare Pa 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 Quindi pa pa l'effetto Pa pa col quattro Pa pa col due cerchiato E pa pa col tre Quindi due volte il quattro Due volte il due cerchiato Due volte il tre Sarà pa 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 Ancora questo Pa 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 Ancora Pa 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 Ancora Pa 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 Ancora Pa 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 Mettete il video in ferma immagine E fatelo per una mezz'oretta Quindi questo magari lo fate in giorni separati Un giorno una frase Un giorno un'altra frase Quindi l'avete fatto Riesce così Pa 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 Aprendo raggiungo queste tre note Tre, quattro, tre Quindi ad aprire Tre, quattro, tre Ancora questo Aggiungo il due ad aprire E il due a chiudere Quindi sarà Ancora Ancora Quindi pa 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 puoi Fate tre, quattro, aprire Di nuovo il tre Il due E poi chiudete con il due vi faccio le varie frasi che stiamo facendo così ci capiamo le metto a video per ripetere questa era la prima frase dal 4 poi aprendo 3, 4, 3, 2 aprendo e il 2 chiudendo fate un fermo immagine e la ripetete da qui questa frase nuova bene, l'avete fatto esce così di nuovo questo e il primo frammento il secondo è ad aprire 3, 4, 3 2 e 2 chiudendo di nuovo questo poi ad aprire ancora 4, 4, 2 chiudendo 2 volte 3, 3 aprendo 3, 4, 3 poi il 2 e chiudendo con il 2 quindi sarà ancora questo 4 aprendo fatelo ore e ore fin quando uscirà il legato così chiaro? una volta che avete fatto questo l'avete ripetuto tantissimo lo legate alla frase di prima e sarà così qua la seconda frase bene, solo fate un'oretta andando avanti ora andiamo in quinta posizione ad aprire abbiamo 2 con 3 volte il terzo dito 2 cerchiato 4, 3 quindi ancora questo 2 con 3 volte il 3 3 volte il terzo dito 2 cerchiato poi 4, 3 quindi ancora ripetiamo questo fatelo per 10 minuti ok stiamo facendo questo ve lo metto in video questo un secondo il 2 da qui il 2 fino qua e poi andiamo avanti fatelo 10 minuti questo e sarà così aprendo fatelo per 10 minuti mezz'ora ancora poi aggiungiamo le altre note 3 cerchiato 4 e 2 cerchiato 3 così 3 cerchiato 4 2 cerchiato 3 quindi ad aprire sempre 3 cerchiato 4 2 cerchiato 3 fate questo per una mezz'oretta quindi questo 3 cerchiato 4 2 cerchiato 3 non è andata fanno un fermo immagine bene avete fatto il fermo immagine l'avete ripetuto per una mezz'oretta uscirà così se non l'avete fatto non capirete quasi nulla della parte quindi sarà così collegate al blocco di note di prima che sarà così cioè dall'ultima nota del terzo rigo la frase di poco cioè il blocco di poco fa di nuovo questo il blocco di poco fa cerco di legarle ora a casa poi man mano cercate di ridurre la pausa fermate di meno tra un blocco e l'altro così ripetete ore e ore andando avanti dopo avete fatto questo magari un giorno questa frase proseguiamo con l'ultima nota del quarto rigo in quarta posizione col due cerchiato e quindi due abbiamo il due cerchiato con tre volte il terzo dito e poi il due normale chiaro due cerchiato da aprire tre volte il terzo dito il due normale e sarà e sarà ancora questo è un altro blocco e sarà così ad aprire ancora questo due cerchiato ad aprire tre 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 due normale quindi ancora questo fatelo per mezz'ora questo ve lo metto in video ecco qua da qua due cerchiato tre 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 e quest'altra nota va bene che è il due mettete in pausa e fatelo l'avete studiato tantissimo e ora esce così aggiungete il due a chiudere poi aprendo sempre il due il tre così chiudete col due aprite e poi il tre quindi il due chiudete aprite e poi il tre il due a chiudere in quarta posizione poi aprite e poi il tre quindi fatelo per dieci minuti questa dieci minuti mezz'ora magari e questo pezzo qua tarara mettete in pausa e fatelo anche per mezz'ora bene non fate questo video tutto in un giorno se lo state seguendo tutto in un giorno probabilmente farete un po' di confusione va assimilato va distribuito magari in tre o quattro giorni per suonarlo divertendosi questa frase quindi l'avete ripetuto esce così la leghiamo all'altro blocco che c'era poco prima quindi dall'ultima nota del quarto rigo uscirà così ancora il blocco di prima quello di poco fa e sarà così ancora fatto questo la possiamo legare tutta l'ultima nota non la facciamo perché è la stessa nota come vedete dell'inizio ecco qua questa è la stessa nota dell'inizio qui quindi è uguale e collegando tutta tutta la parte quindi dall'ultima nota del primo rigo sarà così la prima frase l'altra quindi della melodia l'ultima nota ora del secondo rigo apro in quinta posizione ad aprire ora due tre vado in quarta posizione due cerchiato e poi lo ricollego di nuovo dal secondo rigo il brano è molto semplice quindi però fate ogni frase un giorno così la memorizzate molto bene ora ve la metto in video tutta quanta così potete fare un fermo immagine e ve la studiate magari per bene l'introduzione imparate la memoria è questa qua e la parte di sotto è questa chiaro? ecco qua fate un fermo immagine la potete ripetere tantissime volte il brano è molto semplice facilissimo se lo fate diciamo a pezzi sarà veramente un gioco vi divertirete insomma sarà facilissimo per chi vi ricordo di fare gli esercizi giornalieri che sono di tutti i vari ritmi vi aiuterà a mettere i bassi su questa anche su questo brano ricordate di imparare prima benissimo la mano destra deve uscire benissimo i bassi vanno messi fra un mese due mesi quando avete imparato proprio a memoria avete interiorizzato bene questa parte va bene per oggi è tutto quindi se avete qualche difficoltà lasciate insomma nei commenti un vostro messaggio non mettete i bassi subito mi raccomando questa è la cosa importante i bassi sono scritti sotto ascoltate anche il brano originale va bene se vi piace insomma non il brano insomma il discorso delle lezioni magari anche il brano mettete un mi piace condividetelo sui social questo mi farà capire insomma che siete interessati ad altri video magari ne farò anche altri va bene fin quando potrò insomma un saluto da Mario Carbone alla prossima lezione ciao a tutti ciao a tutti